Buon pomeriggio a tutti e bentrovati su Radio Copp 76, la radio di Conf Cooperative Viterbo. Chi vi parla è Daniele Camilli, la rubrica è Bandi e Finanziamenti, curata da Paolo Fiorenzo, che è qui accanto a noi. Ciao Paolo. Ciao Daniele, un saluto a tutti voi. Bandi e Finanziamenti, sempre della Regione Lazio, anche in questo caso, ma questa volta rivolti ai comuni della Regione, è Bandi che riguardano, anzi un unico bando che scade tra l'altro tra una decina di giorni circa, è Bando che porta questo titolo, concessione e contributi della Regione Lazio per la scuola dell'infanzia e riduzione delle liste d'attesa sempre nella scuola dell'infanzia. La parola a Paolo Fiorenzo. Grazie Daniele. Questo bando, diciamo, è un bando promosso dalla Regione Lazio e in particolare dalla Direzione regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola, Università, Diritto allo Studio, che ritiene di fondamentale importanza la generalizzazione del servizio di scuola dell'infanzia per i bambini che vanno dai 3 ai 6 anni di età. E questo anche per dare una continuità educativa con i servizi della prima infanzia, quindi il cosiddetto asilo nido da 0 a 3 anni, e la scuola primaria dai 6 ai 10 anni. E, diciamo, secondo la Regione Lazio, giustamente, la scuola dell'infanzia ha una funzione sociale e formativa, sia quando sono comunali che quelle paritarie e convenzionate. E, diciamo, l'obiettivo del presente bando è quello di, diciamo, dare dei contributi ai comuni per l'istituzione di nuove sezioni per l'infanzia e per ridurre le liste di attesa. E, diciamo, la selezione dei progetti è aperta anche alle domande per il prolungamento dell'orario di funzionamento delle sezioni già esistenti e funzionanti a orario ridotto, quindi quelle fino all'ora di pranzo, che saranno valutate solo in caso di economia a conclusione dell'assegnazione dei contributi per l'istituzione delle nuove sezioni per l'infanzia. Chi sono i soggetti ammessi? Come già ha anticipato da Daniele, possono partecipare esclusivamente i comuni del Lazio. I comuni interessati potranno ricorrere anche in accordo tra loro alla gestione diretta o anche alla stipula con le scuole paritarie presenti nel territorio comunale di apposite convenzioni rispettose dell'autonomia educativa delle scuole e della libera scelta dei genitori finalizzate a ridurre i costi e ampliare il servizio delle famiglie. Per quanto concerne Roma Capitale, le istanze verranno inoltrate dai singoli municipi al comune stesso che provvederà poi a istruirle e a trasmetterle alla Regione Lazio. Le risorse disponibili ammontano a 700.000 euro per l'anno scolastico 2014-2015 e il servizio sarà destinato ai bambini presenti nel territorio comunale che alla data del 31 dicembre 2014 abbiano compiuto il terzo anno di età o che non superano alla stessa data il sesto anno di età ovvero i bambini nati nel periodo compreso che va dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2011. Come peraltro è previsto, l'iscrizione dei bambini che compiranno i tre anni entrano in oltre il 30 aprile del 2015. In questo caso però la loro ammissione è subordinata all'esaurimento della lista d'attesa comunale dei bambini che abbiano compiuto tre anni entro il 31 dicembre 2014. Le sezioni della scuola di infanzia di cui rappresenta avviso dovranno essere costituite con un numero di bambini non inferiore a 18 unità e non superiore a 29 unità. Le sezioni che accolgono alunni con disabilità dovranno avere un numero di iscritti non superiori alle 20 unità. In caso di richiesta di contributi per l'iscrizione dei bambini presenti nelle liste di attesa comunali verso scuole dell'infanzia paritari i comuni potranno ridurre le liste di attesa stesse attraverso l'inserimento degli eventi diritto rispettando naturalmente l'ordine di gravatoria nelle sezioni di scuola dell'infanzia paritarie con cui verrà stipulata un'apposita convenzione non superando comunque il limite massimo dei 29 alunni per la sezione e dei 20 alunni in sezioni che accolgono alunni con disabilità Il contributo che sarà elagito in questo caso ammonta a 25.000 euro per le sezioni a 25 ore o 40.000 euro per le sezioni a 40 ore ogni 24 alunni presenti nelle liste di attesa e inseriti nelle sezioni di scuola dell'infanzia paritaria Per le liste di attesa inferiore a 24 alunni e per l'eventuale ultimo residuo inferiore a 24 alunni il contributo sarà riparametrato in proporzione Inoltre nel caso di istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia comunale il contributo richiesto alle famiglie non dovrà di norma superare quello fissato per le altre sezioni di scuola dell'infanzia comunale funzionanti nel territorio e anche in caso di convenzioni con le scuole dell'infanzia paritaria le convenzioni medesime dovranno definire l'ammontare della retta a carico delle famiglie calcolata sulla base della retta prevista dalla scuola per i suoi iscritti detraendo il contributo regionale e l'eventuale cofinanziamento del comune Quali sono i criteri e le modalità di valutazione? Le domande verranno esaminate da una commissione interna e la commissione andrà a esaminare le domande presentate valutando la loro ammissibilità dal punto di vista formale e inoltre attribuendo un punteggio complessivo sulla base di alcuni parametri I parametri sono i seguenti l'assenza totale del servizio ovvero avranno priorità tutti i comuni nel cui territorio sia totalmente assente il servizio di scuola per l'infanzia sia comunale che statale e il secondo criterio è poi quello l'utilizzo dei contributi assegnati per precedenti annualità ovvero verranno attribuiti due punti ai comuni che abbiano utilizzato per intero i contributi regionali già assegnati con il precedente avviso pubblico regionale e con l'obiettivo di non penalizzare i comuni che non abbiano mai percepito contributi regionali per la scuola dell'infanzia verranno assegnati anche a questi due punti e in tal modo resteranno esclusi dal diritto al punteggio solo i comuni che abbiano in passato vanificato il finanziamento regionale verrà poi valutata la consistenza della lista d'attesa e quindi la gravatoria sarà ulteriormente articolata in base al rapporto percentuale tra il numero degli iscritti nelle scuole dell'infanzia statale e comunale e il numero di bambini in lista d'attesa come risulta certificato dal comune che presenterà la richiesta di acconto e quindi i comuni con un rapporto fino al 30% avranno tre punti i comuni con un rapporto tra il 31 e il 50% avranno cinque punti i comuni con un rapporto tra il 51 e il 60% avranno sei punti i comuni con un rapporto oltre il 61% avranno dieci punti e il comune in caso di finanziamento dovrà stilare una graduatoria in base a criteri deliberati dall'aggiunta comunale verrà poi valutato gli alunni prescritti ovvero chi si sono iscritti nel termine precedentemente stabilito dallo Stato e dai comuni nella formulazione delle gradatorie e il riferimento alle liste di attesa si racconta in prima istanza solo degli alunni regolarmente prescritti eventuali iscrizioni fuori termine saranno conteggiate solo in seconda istanza e verranno poi infine valutate le iscrizioni di alunni con disabilità ed alunni non nati in Italia quindi la presenza di alunni con disabilità certificata nell'istituenda sezione verrà valutato un punto così come la presenza di alunni di cittadinanza non italiana o di origine migrante anche questo un punto inoltre verranno assegnati 5 punti ai comuni che cofinanzieranno l'attivazione e il funzionamento delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia con risorse proprie non inferiore al 30% del contributo richiesto quindi a fronte di un contributo regionale di 25.000 euro il finanziamento del comune deve ammontare almeno a 7.500 euro e infine con l'obiettivo di sostenere la gestione congiunta delle sezioni da parte dei più comuni a vantaggio dell'efficienza delle risorse e delle possibilità di sviluppo del servizio con la popolazione locale verranno attribuiti 3 punti al comune che presenterà domande di contributo in rappresentanza di più amministrazioni comunali e quindi anche in questo caso in questo bando si favorisce le aggregazioni tra comuni una volta definita l'assegnazione delle risorse sulla base della curatoria complessiva per il finanziamento delle richieste di attivazione di nuove sezioni nel momento in cui ci sia un avanzo di finanziamento potranno essere prese in esame le richieste di prolungamento dell'orario di funzionamento fino a 40 ore settimanali delle sezioni già esistenti e funzionanti a tempo ridotto quindi quelle a 25 ore avanzate dai comuni per ogni sezione ammessa al finanziamento sarà concesso ai fini del prolungamento dell'orario un contributo di 15.000 euro al termine della valutazione la commissione trasmetterà alla direzione formazione ricerca e innovazione scuola, università, diritto allo studio dell'elenco dei comuni formato nell'ordine dai comuni in cui è totalmente assente il servizio articolato per numero di iscritti seguito dagli altri comuni in base al punteggio ottenuto trasmetterà poi l'elenco dei comuni già presenti nel precedente elenco per le sezioni ulteriori rispetto alle tre ammesse in prima istanza ordinate secondo il punteggio già riportato nel primo elenco l'elenco dei comuni che hanno presentato richiesta solo per il prolungamento dell'orario di funzionamento delle sezioni già esistenti e l'erogazione delle risorse avverrà seguendo l'ordine appena indicato fino all'eserimento delle stesse come già detto e ripetiamo l'entità del contributo è la seguente 25.000 euro per ogni nuova sezione che osserverà l'orario di 25 ore settimanali e 40.000 euro se l'orario settimanale è di 40 ore qualora la nuova sezione di scuola dell'infanzia attivata nell'anno scolastico 2014-2015 abbiano durato inferiore a 10 mesi o il numero dei bambini iscritti frequentanti sia inferiore a 18 unità il contributo concesso verrà riparametrato in proporzione qual è il termine e le modalità di presentazione della domanda? come già accennato da Daniele l'avviso pubblico a scadenza 29 settembre 2014 alle ore 12 l'unica metodologia di invio della domanda è tramite posta elettronica certificata all'indirizzo programmazione.istruzione chioccelaregione.lazio.legalmail.it e le domande inviate per PEC dovranno indicare come oggetto esattamente la dicitura avviso pubblico per la concessione di contributi per l'istituzione di nuove sezioni per l'infanzia visti i precedenti della consegna per PEC tra ricevuta di accettazione e ricevuta di consegna in questo bando c'è anche questo esplicito che dice che l'orario di ricevimento della PEC è quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna pertanto non sarà presa in considerazione come attestazione dell'orario di presentazione della domanda la ricevuta di accettazione e come sempre le modalità di consegna diverse da quelle indicate comportano l'esclusione in caso di aggregazione dei comuni i comuni tra loro devono stipulare un accordo in cui descrivono le modalità di gestione individuano uno dei comuni sottoscritti quale capofila e nello stesso accordo dovrà essere inserita la delega al comune capofila per la presentazione della domanda l'incasso dell'eventuale contributo riconosciuto e per tutte le procedure amministrative inerenti il rapporto con la regione qual è la documentazione da presentare vanno scaricati i moduli dal sito della regione vanno compilati, firmati dove richiesto e scansionati in un unico file pdf infatti quando si invia la PEC va inviato esclusivamente un file pdf e va inviata la domanda di contributo che è l'allegato A l'allegato B ovvero la scheda informativa sulla sezione o le sezioni da attivare una copia della delibera dell'aggiunta comunale che attesta la volontà di aprire una nuova sezione di scuola per l'infanzia l'elenco del personale docente e ausiliario disponibile per la nuova sezione un accordo eventuale tra i comuni per la gestione diretta delle nuove sezioni di scuola dell'infanzia che si intendono avviare e una copia conforme delle convenzioni in atto con le scuole paritarie oppure una dichiarazione congiunta dei soggetti che intendono attuare una convenzione per attivare una nuova sezione di scuola dell'infanzia o per accogliere alunni precedentemente inseriti nelle liste di attesa con impegno a presentare copia conforme delle convenzioni entro il 14 novembre 2014 infatti una volta pubblicate le gradatorie verrà concesso il finanziamento e i comuni che si saranno giudicati il contributo per accedere al finanziamento dovranno presentare entro e non oltre il 14 novembre 2014 una nota in cui si certifica l'avvenuta apertura della nuova sezione e si allegano i nominativi dei bambini frequentanti con l'indicazione della data di nascita nel caso di sezione attivata in convenzioni con scuole paritarie dovrà essere allegata anche la convenzione firmata se non è stata già presentata con la domanda le comunicazioni successive al 14 novembre non saranno accolte e decadrà automaticamente il diritto al contributo e una volta finito l'intervento le amministrazioni comunali dovranno presentare alla regione una relazione sullo svolgimento dell'attività e sui risultati conseguiti insieme a un reseconto contabile approvato dall'organo competente che attesta le spese sostenute entro e non oltre il 31 agosto del 2015 quindi a chiusura dell'anno scolastico 2014-2015 per il quale è concesso il contributo eventuali somme non utilizzate dovranno comunque essere restituite alla regione Lazio in chiusura per informazioni sull'avviso diciamo sia l'avviso che tutti gli allegati li trovate sul sito della regione www.regione.lazio.it ma per informazioni dirette potete rivolgervi oltre che naturalmente a noi anche direttamente alla regione Lazio all'indirizzo rzaccherini-legione.lazio.it o rsuriani-legione.lazio.it Bene Paolo quindi in arrivo finanziamenti per le scuole dell'infanzia per come dire abbattere da una parte le liste d'attesa dall'altra incrementare i posti a disposizione per le famiglie pare secondo quelle che sono poi le dichiarazioni della regione Lazio in particolar modo del presidente Nicola Zingaretti rilasciate proprio qualche giorno fa che dovrebbero in tutto il Lazio ovviamente potrebbe esserci 600 posti in più laddove i comuni appunto ne facciano richiesta come previsto dal bando che c'è appena raccontato per quanto riguarda diamo alcuni dati per quanto riguarda le scuole dell'infanzia nella provincia di Viterbo sono in tutto 148 ecco più di una per comune il comune che ha più scuole dell'infanzia è il capoluogo Viterbo con 26 scuole dell'infanzia segue Civita Castellana con 9 Soriano Nel Cimino con 4 e poi Ronciglione, Orte, Tuscania, Montalto e Canino con tre scuole dell'infanzia per il resto ci attestiamo attorno a due o ad una chiudiamo appunto invitando i comuni a rivolgersi anche a Conf Cooperative Viterbo per quanto riguarda la progettazione e la presentazione del bando che scade il 29 di settembre seguendo appunto tutte le indicazioni che vi ha suggerito Paolo Fiorenzo per contattare Conf Cooperative e in particolar modo Paolo Fiorenzo ci potete venire a trovare in strada Poggino 76 a Viterbo oppure potete chiamare dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal lunedì al venerdì ripetiamolo dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i giorni dal lunedì al venerdì ai numeri 0761 25 21 15 ripetiamolo 0761 25 21 15 oppure 0761 25 35 77 ripetiamo anche questo numero 0761 25 35 77 chiedendo appunto di Paolo Fiorenzo poi per chi non volesse chiamare c'è anche una mail che è viterbochiocciolaconfcooperative.it ripetiamola viterbochiocciolaconfcooperative.it e con questo salutiamo Paolo Fiorenzo ciao Daniele un saluto a tutti voi un saluto a tutti i nostri radioascoltatori anche da parte mia e insomma ci rivediamo anzi ci risentiamo la prossima settimana sempre con la rubrica dedicata ai bandi e ai finanziamenti sempre su radiocoppe 76 la radio di confcooperative Viterbo con la rubrica a tutti i nostri dei antide